Buongiorno a tutti, allora volevo ringraziare Nicola Guida che è stato così gentile da mandarmi l'abbonamento della Ternana, io lo ringrazio, lo ringrazio con tutto il cuore, questa è l'unica squadra che io ho tifato nella mia vita, l'unica squadra che ho tifato davvero, l'unica squadra nella quale credo e sono i colori più belli. Detto questo sono contento di aver ricevuto direttamente dal Presidente questo abbonamento del 23-24, non dico nulla perché sono scaramantico e spero che sia l'anno giusto e sarò il primo tifoso a esserne felice. Grazie ancora signor Guida, grazie Presidente, grazie Ternana. Ringrazio anche il Presidente Guida di avermi onorato della nuova maglia della Ternana, lo ringrazio, gentilissimo. Solo una cosa voglio però dire a Guida, scherzando, Guida è vero che qui in Comune mi stanno stressando, spero che lei poi un giorno voglia sostituirmi, sostituirmi, se vuole diventare sindaco, ma lei mi manda un L Guida, bisogna incontrarci di più perché con un L me la metto direttamente sulla testa come berretto. No sto scherzando Guida, resterà nel mio ufficio, grazie Guida. Grazie. 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 Grazie a tutti.